Martin Valiant è oggi il match winner, purtroppo match winner no, semi match winner perché è venuto fuori un pareggio 1-1 però l'importante è questa cosa che è stato prezioso in un momento topico della partita ma magari match winner semi ho detto purtroppo purtroppo sì come ho detto già prima credo che abbiamo fatto una buona gara come tante altre prima stiamo giocando bene, creiamo tante occasioni ma non riusciamo a portare a casa tre punti che ci manca, ci manca tanto e da tanto tempo quindi bisogna rivedere magari qualcosa e dare sempre qualcosa di più perché se no non arriva la vittoria saranno i tempi duri come dicevamo prima terzo gol in maglia rosso verde e secondo qui al libero liberati quindi raccontaci un po' che cosa hai provato, quali sono state le tue emozioni a questo gol e poi se c'è una dedica particolare ma il gol è arrivato anche per caso perché era un'area spinta ho tirato come ho provato già anche partite precedenti meno male questa è entrata e la dedica io il gol dedico sempre a mio nonno ma questa volta la dedico a Simone Sinico per la sua scomparsa un ragazzo che conoscevo di vista quindi è per la sua famiglia come un piccolo sostegno Senti, all'improvviso la Ternana è così, cambia modulo gioca con un modulo più equilibrato però nello stessore diventa un po' più sterile davanti in attacco è una coperta forse troppo corta? Ma questo non so dirti abbiamo cercato di giocare con i più uomini avanti abbiamo fatto più gol però abbiamo subito di più adesso magari portiamo un po' di meno uomini davanti non li facciamo 3-4 gol come all'inizio però non li prendiamo quindi bisogna trovare un equilibrio dove gol non si prendono e si fanno non è facile se era facile già si faceva quindi è anche una questione di tutto di allenamento io credo che questo gruppo sicuramente lavorerà duro per uscire da questa classifica Nonostante i quattro risultati utili consecutivi che sono il frutto di quattro pareggi la vittoria però manca da parecchio tempo a questa Ternana avete sentito un po' il peso di questi tre punti che non tardano ad arrivare oppure andate avanti tranquilli? No, non dobbiamo andare davanti tranquilli perché se uno non è tranquillo non può lavorare bene però sicuramente la vittoria ci manca sono tre punti che in questa classifica cortissima fanno differenza quindi bisogna sempre essere concentrato aver voglia di lavorare io credo che i tre punti lavorano e possono essere una svolta di campionato